Con il Novecento di Antonio Casella, del quale andrà in scena nel Palazzo Ducale la Donna Serpente, si dà il via questa sera la quarantesima edizione del Festival della Valle d'Itria. La Donna Serpente è il simbolo di questa manifestazione ormai nota da anni nella Valle d'Itria, perché sacrifica la pelle vecchia per quella nuova, rimanendo fedele a se stessa ma riuscendo a guardare al futuro. Tratta dall'omonimo dramma di Carlo Gozzi, autore anche di capolavori come Turandò e L'amore delle tre, Mela Arance, fu composta da Casella in tre anni, prima del debutto al Teatro Reale di Roma, il 17 marzo del 1932. Ma questa sera sarà festa nella festa. Oltre al pregiato valore artistico dell'opera teatrale, c'è da segnalare la presenza sul podio di Fabio Luisi. Oggi, direttore stabile a New York e Zurigo, Luisi è arrivato giovanissimo nel 1981 a Martina Franca, dove ha cominciato a lavorare come maestro sostituto prima di passare al podio. Regia dell'opera sarà di Arturo Cirillo, tra i più ammirati talenti teatrali italiani di oggi, affiancato dai suoi fedeli collaboratori, Dario Gissati per le scene e Gianluca Falaschi per i costumi. La donna serpente, ha dichiarato Fabio Luisi, è un'opera legata al passato italiano, ma che ben si allontana dalla tradizione dell'opera lirica. All'inizio del Novecento Casella era infatti un compositore di successo in ambito sinfonico, deciso a rigettare il verismo per mettersi in contatto stretto con la storia europea. In quest'opera tutti i nuovi movimenti internazionali sono quantomeno sfiorati. Eppure, ha aggiunto Luisi, nel panorama dei fermenti artistici europei, Casella non era un epigono. Nella sua musica vivono le idee di Stravinsky, i colori di Ravel, l'ironia di Milaud. Negli anni venti e trenta del Novecento il compositore italiano era tra i più eseguiti insieme a Bela Bartok. La sua scomparsa dal repertorio è deplorevole, ma ci auguriamo con questa operazione di spezzare una lancia in suo favore.